Sono Adirco Ledani, ci troviamo a San Marino all'interno del mio stand del team bianchi. Oggi sono qui per presentarvi la mia bici, la mia Hardtail la metano CV RS, nuova di quest'anno. Ho scelto questa bici perché il percorso non è molto tecnico, è molto veloce, reattivo e soprattutto perché le salite sono abbastanza lisce e quindi si riesce a menare con il massimo della potenza senza dover metterci a guidare anche in salita. Come gomme ho scelto delle booster di Kenda, le nuove gomme che sono molto scorrevoli, con una spalla un po' più alta, quindi ti permette di esagerare un po' in discesa ma senza rischiare. La mia bici è montata con guarnitura FSA, manubrio, regisella FSA, sella Fizzic, la forca abbiamo un Fox e poi ognuno di noi del team la personalizza a suo piacere. In questo percorso userò una forcella un po' più pompata, un po' più gonfia e con un ritorno più veloce perché comunque ci sono questi tronchi e queste curve in sponda dove la forcella deve risponere alta altrimenti l'affondamento può far lavorare troppo la gomma davanti. Come rapportatura molto importante io personalmente quest'anno ho deciso di fare tutta la stagione col 36 davanti, 10-50 dietro, disram, così anche nell'allenamento riesco ad abituarmi alla pedalata perché comunque lo scorso anno facevamo un po' di cambiamenti, quest'anno ho scelto di avere la stessa bici che uso in allenamento, usarla anche in gara e mi trovo molto meglio. Anche perché il 50 poi sinceramente non lo usiamo quasi mai, però a volte quando la gamba non è al top o in allenamento lo usiamo più che volentieri quindi è un'ottima cosa averlo. Una chicca sono i nuovi cerchi crank sintesi con canale anteriore da 26 e dietro 24, quindi il più largo davanti e devo dire che le gomme lavorano molto meglio rispetto allo scorso anno e sono molto contento del feeling di guida e quindi per questa corsa qua sono ottime.